Innanzitutto ringraziamo questa fantastica pizzeria, ringraziamo Rubina e l'opulenza di questa serata che è ricca di un sacco di cose. Questa sera vi accompagneremo in questo ultimo dell'anno con un po' di musica e un po' di cabaret. Quindi ci sarà da ridere, ci sarà da ballare, se volete ballare alzati, vi divertiamoci, balliamo insieme. Cominciamo con un paio di pezzi, così puoi scaldare un po' l'ambiente, poi passiamo i primi, va bene? Noi siamo i Blues Magic Machine, siamo una band che nasce nel 92, ha cambiato un po' di confonenti. Questa sera in realtà di solito siamo in 9 e questa sera siamo in una mini, mini versione, siamo solo in 2. Dopo vi presento però la nostra serata, che è un comico molto bravo, ma ne parliamo dopo. Adesso poi partiamo col canto. Grazie a tutti. 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 . 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